Come si produce il pane e lo vende nella bottega? Si appende, si fanno le ramasole, viene coltivato sulla fascia costiera, tra Ostuni e Monopoli, è annaffiato con la terra e l'acqua, sono un po' salmastre e danno questo sapore molto particolare. Qui c'è tutto il mondo e io faccio parte di questo pianeta, in minima parte.